Ma dobbiamo spiegare dopo perché? Che cosa dici Sevo? Mi sei matto! Era di più qua! Era una squadra italiana questa? Non è mai sbagliato per poco! Posso spiegare perché? Spiego perché ero più resistente Perché le notti Pupi dormiva Io no! Per quello! Io andavo all'andamento senza dormire Ma io come brasiliano no? Tutti sono già... posso scegliere due? Queste sono domande che mettono in difficoltà a noi E lui è più grande di me no? Devo vedere no? È così! Ma... Questa non possiamo sbagliare Seba Guarda! Non so se... Bravo! No! Guarda che non ci siamo copiati! Oh! Ma anche Bancio è riscaramatico eh! Allenatore! Sì 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 sì! Questo è facile! Questo si va peggio! Questo è troppo facile! Bravo! Anche! 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 Hai ragione! Eh i portieri si vestono male! Ma non lo so se i portieri si vestono male Ma lui è vecchio! È nato vecchio! No! 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 Non lo so! Chi era l'altro presidente? Chi era? Zé Maria! Zé Maria! Ma non lo so! Zé Maria! Erano nove allora! No! Zé Maria è troppo male! No! Gruz Camiasso Martins! Al ritorno! Al ritorno! In cruz! In cruz! In cruz! Camiasso! Oh! È sicuro! Sì questo è sicuro! Io non ho visto Seba giocare in porta no? Per ora lo conosce bene chi è di qua! Tu lo conosce bene! Bravo! Eh! Seba conosce ormai! Sì sì! Questo è giusto!